Rigida, bilanciata su, bella massiccia, però ha anche dei difetti. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con una delle racchette più particolari del mercato, una delle più tecniche in assoluto e parliamo di Varlion Born su Monprisma nella versione 2023, ovvero con il sistema Airflow. Cosa ha fatto Varlion? Molto semplicemente ha ripreso la tecnologia che aveva applicato sulle sue radio, quindi il modello più elitario dal punto di vista soprattutto del costo delle tecnologie, e l'ha riportata su tutta quanta la linea Prisma. Quindi dal 2023 in sostanza LV, Maxima e Born avranno il sistema Airflow di serie. Non solo, qui parliamo della versione Mike Yangwas perché è la replica della racchetta utilizzata dal campione Warpadel Tour. La versione invece standard, dalla quale differisce semplicemente per la colorazione, è invece proposta in verde. A mio gusto personale lei è decisamente più bella, però voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate rispetto all'estetica, che è molto personale, sicuramente lei sarà un poco più apprezzata rispetto al modello standard. E visto che parliamo di estetica, come potete vedere, Born si è un po' scurita, si è un po' brunita perché abbandona il giallo fluo. Adesso c'è questa sorta di color rame, che va a sostituire il giallo fluo appunto, e il grigio diventa più un grigio titanio che un grigio metallizzato. La racchetta è indubbiamente molto bella esteticamente, anche la faccia si scurisce, quindi la costruzione in carbonio al di sotto che si intravede in sostanza è più scura rispetto all'anno precedente. Invariate invece tutte quante le altre strutture, ovvero traio prisma, slice technology per quanto riguarda lo spin, che però mi sembra un po' più marcata, non so dirvi esattamente se è su questo modello singolo, ma in realtà ne ho visti diversi, sembra un filo più marcata rispetto all'anno scorso. Diffusore centrale sempre immancabile, manico lungo di 14,5 cm e il laccetto che c'è a chi piace e chi no. È una soluzione sicuramente proprietaria, dà meno fastidio rispetto ai laccetti ad esempio di Starvai, ma che a Starvai quest'anno comunque si è un'attima modernata su alcuni modelli, tuttavia ho laccetto molto molto leggero. Ripeto, c'è chi piace e chi no, ma tra i vari laccetti tradizionali, quindi senza cappio, probabilmente è quello più funzionale. La racchetta esce di serie con il protettore che potete montare o meno, quindi vi arriva smontato, voi potete decidere se montarlo o meno, ma nel caso di questo test specifico ho preferito non montarlo, perché? Perché questa racchetta pesa 368 grammi ed ha un bilanciamento con il grip montato di 27,5 cm. Sappiamo che in Varlion 368 grammi sono tanti, ho voluto fare questo test in doppio peso, l'ho provata sia in 368 grammi che 345, per darvi delle opzioni e per capire esattamente come si comporta questa racchetta e su che peso orientarvi nel caso vogliate acquistarla, perché è molto importante la questione peso su Varlion. Vi ricordo inoltre che quando Varlion dichiara il peso è dichiarato senza protettore. Alcuni modelli hanno già il protettore montato, altri arrivano con il protettore smontato, quindi se è indicato ad esempio 345, dovrete aggiungere circa 11 grammi in più per avere il peso reale e un centimetro in più di bilanciamento. Quindi nel caso avessi montato il protettore su questo modello qui, sarebbe arrivato a 380 grammi circa, con un bilanciamento di 28,5 cm. Capite bene che su questa il protettore è meglio che non l'abbiamo montato. Piccolo scenno dal punto di vista della fattura, Varlion ha delle buone finiture, nel caso però di questo Airflow diciamo che all'interno, provo ad avvicinare per farvelo vedere, diciamo che gli intagli non sono effettuati esattamente alla precisione, però vogliamo dire che è un prodotto comunque artigianale, determinate cose vengono perdonate, ma con una racchetta che costa 400 euro ci si aspetterebbe la precisione massima sui dettagli. Quindi Varlion, attenzione quando tagli bene la schiuma interna, perché il problema non è sulla faccia che comunque è tagliata bene, ma nella schiuma si vedono un pochettino di residui di taglio che restano un po' di troppo. Ecco, quindi piccola cazziatina per Varlion. Dal punto di vista tecnico, e poi passiamo direttamente in campo, lei ha un doppio piano di carbonio sulle facce, con un'aggiunta di fibra di vetro, quindi un'archetta che comunque è dura. Proposta sempre in versione doppia winter e summer, in questo caso siccome fa freddo ho testato la versione winter, più avanti testerò la versione summer, che tra l'altro ha una figata pazzesca per quanto mi riguarda esteticamente, perché la gomma all'interno è rossa. Particolare molto interessante, che va a distinguere non solo per la W e la S qui i modelli winter e summer, ma anche dal punto di vista estetico. Trovo che questa cosa sia comunque bella. La versione, chiaramente, summer, secondo me, è più bella e aggressiva rispetto a lei, che è un po' più sobria. Prima che ve lo dimentichiate, ve lo ricordo io, lasciate sempre un like ai miei contenuti, quindi lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e ovviamente attivate la campanella delle notifiche, così non vi perdete nessun video che pubblico su questo canale. Mi raccomando, il vostro supporto è sempre molto importante. Allora, come si comporta in campo questa Valion Born Summon Prisma Airflow 2023, versione Mike Yanguast? Sono già stanco, ok, ciao ragazzi, è finita la recensione. No, a parte gli scherzi, questo per dirvi che ha un nome importante, ha un comportamento importante, ha una richiesta importante questa racchetta. Secondo me parliamo di una delle racchette più tecniche del mercato, che si avvicina un po' al concetto della Lebron, che è stata recentemente rilasciata da Babolat, ma con una differenza fondamentale. Lei è una dura, una dura in tutti i sensi, anche nella versione winter. Non è medio dura, non è una medium hard, è una hard, anche nella versione winter. Semplicemente il nucleo winter serve a lavorare un po' meglio nei mesi invernali e autunnali, quando, diciamo, la temperatura non concede al nucleo un buon lavoro. Questa è la realtà dei fatti. Si può prendere una summer in inverno, se giocate al coperto, tendenzialmente sì. Se giocate in luoghi dove le temperature, Varlion dice 25 gradi, non sono così basse, o comunque giocate quasi sempre in condizioni di sole, e così via, si può azzardare la S, la summer, direttamente sulla winter, anche, diciamo, nei mesi invernali, sapendo che, se vi dovesse capitare, più umidità, più freddo, è veramente dura. Per capirci, i pro che utilizzano Varlion, utilizzano sempre il nucleo summer, tutto l'anno e in qualsiasi condizione di gioco. Ma loro sono pro, noi no. Fatta questa premessa, l'abbiamo detto, è tosta, è una racchetta a diamante, è una racchetta che ha un punto dolce piccolo, è una racchetta rigida, e ha anche dei difetti, come ho detto nell'intro. Questo perché? Perché è chiaro che una racchetta del genere, quando ci vai a giocare e ti trovi sulla rete, è chiaramente una racchetta che ti fa sentire il padrone del mondo, perché è una racchetta che spinge, è una racchetta che spinge forte la palla, con la finitura slice, diciamo, riesce a dare anche un buono spin, è uno spin tecnico però ragazzi, non parliamo di una grippatura, come ad esempio la Lebron, che prende sempre, qui è uno spin che va dato in maniera tecnica, quindi ti punisce un po' se non la sai adoperare per davvero. È una racchetta da giocatore assolutamente avanzato, avanzato che si allena, avanzato che ha una buona tecnica, è un avanzato che tendenzialmente gioca molto più sulla rete, e che non teme troppo la difesa, con una racchetta dal punto dolce, che tanto dolce non è. Non impossibile, mettiamola così, però ti rendi conto che quando ci giochi dal fondo, è una racchetta che ti concede poco, che ti concede comunque poco tempo per impattare la palla, e quindi devi essere preciso e sul pezzo. Ora, quanti riescono a giocare in questa maniera? Non è una critica al telaio, perché è un telaio che chiaramente è concepito per un livello di gioco, che probabilmente il 99% degli appassionati non ha, me compreso, ma c'è da dire che ha un feeling strepitoso. Il feeling di questa racchetta è veramente sensibilissimo, ti fa impattare con una sensibilità, e con una connessione alla palla molto molto elevata, e questo ti dona una fiducia notevole all'impatto, per cui bisogna un attimo scendere quello che ti permette di fare materialmente, da quello che ti permette di sentire. Da un lato ecco ti ammalia, dall'altro però ti bastona. Questo ovviamente riportato anche al concetto di questa racchetta, che è 368 grammi. La versione ad esempio che ho provato di 345, sempre in versione winter, concede abbastanza di più, perché si muove un attimo meglio, si può forzare un attimo di più, e non ti dà rallentamenti. Quindi sì, hai una racchetta tecnica, ma hai anche una racchetta che riesci a muovere molto più velocemente. Qualcuno direbbe, sì, vabbè, un po' il genere Bubble Hat Air Viper. No, attenzione, lo sviluppo di inerzia di Varlion è sempre superiore a paio di peso, rispetto ad esempio a Bubble Hat. Quindi la 345 di Varlion, premesso che con il protettore diventerebbe 356-357, con un bilanciamento a 28,5, stiamo parlando di una racchetta che ha un altro sviluppo di inerzia e un'altra pesantezza in mano. Tendenzialmente io preferisco la versione più leggera, 345, quindi modulabile tra 345 e 357, a seconda del protettore o meno. C'è da dire però che l'appoggio che ti offre la versione più pesante è sicuramente notevole. Quindi quando scegliete una Varlion in generale dovete anche capire cosa vi serve. I 368 di questa racchetta equivalgono ai 368 di altre racchette? No, perché paragonata a lei ad esempio una H di 368 grammi, io la sento maneggevole. Paragonata ad una M27 Race, la racchetta che io adopero al momento, l'M27 Race a confronto è un fuscello, è leggerissima, anzi ho avuto modo di testarle anche insieme e la differenza è assoluta, non sono quei 5 grammi. A fare la differenza c'è un bilanciamento, c'è un'altra inezza, c'è proprio un concetto diverso. E parliamo sempre di pali di alto livello, ma allora perché questa differenza? La differenza è perché Varlion con questa racchetta produce una racchetta di alta gamma, un realto rango destinato a giocatori di altissimo livello che vogliono qualcosa di altamente aggressivo, che sia potente, reattivo all'impatto, comunicativo e che un punto dolce piccolo non sia un grosso problema. Ora però voglio dire una cosa perché rispetto allo scorso anno il sistema Airflow, che rispetto allo scorso anno va ad aprire un po' lo sweet spot di questa racchetta, da un lato apre il punto dolce in termini di dimensione, dall'altro lo abbassa leggermente perché consente quindi un lavoro maggiore delle facce un po' in generale. Quindi rispetto alla versione dello scorso anno l'ho trovata un attimo più utilizzabile. Parliamo però di un poco più utilizzabile, non tanto, attenzione ragazzi, non è che poi la comprate e ve la prendete con me che la racchetta non è tollerante, perché lei non è tollerante. Diciamo che questa apertura dello sweet spot con il sistema Airflow, oltre a renderla in teoria più fluida nel passaggio in aria, cosa che in realtà non ho notato particolarmente, ho notato invece che va a dare un pizzico di punto dolce in più e un filo più basso, cosa che la rende più giocabile perché l'anno scorso ragazzi il punto dolce qui era altissimo. Detto ciò, lei dal fondo è difficile, è sicuramente una racchetta che ti dà poco tempo per impattare, però impatta forte, è potente, riesce a darti molto, ha una richiesta di ingresso, perché chiaramente impattando in maniera blanda non è una racchetta che restituisce molto, è una racchetta che va spinta, va sollecitato il nucleo, va fatto lavorare il nucleo e allora lei risponde con sostanza, con sensazione e un discreto controllo. Il controllo non è il suo forte. Qui diciamo quello che viene fuori è sicuramente la potenza e lo spin. Trovato miglioramento rispetto all'anno scorso, soprattutto sullo spin. Mi è piaciuta di più per come rende lo spin. Probabilmente oltre al rilevo un pochettino più visibile, tangibile, secondo me è un filo anche più morbido questo rilevo rispetto allo scorso anno. Quindi in teoria grippa meglio. Probabilmente anche avranno cambiato qualcosa anche nelle resine. Trovo che grippi meglio. Indubbiamente grippa meglio. Non in maniera esponenziale, attenzione, ma miglioramenti rispetto ad un modello che era chiaramente maturo e che quindi Valio non ha voluto cambiare. Quindi fondo, parete... Eh, diciamo che soffro particolarmente questa racchetta nel momento in cui ha un bilanciamento alto e quando devi lavorare la palla hai bisogno un po' più di controllo. Noti che lei tende a ruotare su se stessa. Quando esci di parete trovi che ti piega il polso, soprattutto nelle proporzioni di questa versione, a 368 grammi. Quindi tenderei a considerare le 360 in su delle racchette particolarmente impegnative dal punto di vista anche fisico. Quindi attenzione perché è una palla che dal fondo concede poco. Quello che fai lo fai tutto tu e lo fai solo se becchi il punto dolce, anzi il punto amaro, come detto prima. Però poi cosa succede? La porti verso la rete ed è una racchetta fantastica sulla rete perché sulla rete è un bombardone di quelli carichi, di quelli puntati su, di quelli che esplodono veramente di potenza e anche in questi periodi invernali quindi con la palla più pesante magari anche a volte più sgonfia devo dire che lei la potenza la mette. Ha una volée strepitosa, una volée che mi piace veramente un casino perché grippa bene e lì ti comincia a dare un bel controllo sulle volée soprattutto se la segui in maniera veloce però chiaramente anche in questo caso ho notato una grossa differenza tra le versioni più leggere e la versione più pesante. Laddove dopo la seconda, terza volée lei comincia veramente a pesare in mano ha delle proporzioni importanti e se giochi forzando i colpi lei non ti aiuta. Se giochi tendenzialmente andando a forzare un po' i più colpi il peso più leggero indubbiamente ti aiuta di più. A rete diciamo il punto dolce sembra quasi essere accondiscendente sarà che comunque mi trovo con un punto dolce leggermente più alto provenendo io dal tennis però in generale devo dire che a rete la trovo molto calzante pesante a volte puntata troppo in testa anche lì che ti aiuta sì sono determinati colpi al volo però la maneggevolezza e la rotazione talvolta diciamo della racchetta intorno all'asse del bilanciamento ti porta a doverla correggere un po' ecco ti chiude parecchio il polso questa è una cosa che alle volte è un po' noiosa è un po' da gestire ecco non è immediatissima nel modo in cui va gestita in aria però ti rendi conto che tra feeling potenza e buono spin comunque sulla rete ragazzi questa è un portento Born la rete se la mangia a colazione Vibora bella veramente bella perché lei esplode di potenza veramente sa esplodere in maniera molto molto forte bisogna controllarla perché quando ingrana ingrana e bisogna saperle dare il controllo di cui necessita un po' più in difficoltà sulla bandega perché ripeto sui colpi più di controllo è una racchetta che comunque ha un punto dolce piccolino una reattività elevata sicuramente è più una racchetta aggressiva che è di contenimento e di costruzione mettiamola così però un braccio esperto ragazzi ci tira fuori abbastanza un braccio diciamo che ha bisogno sempre un po' di aiuto e sostanzialmente il 99% dei giocatori di Padre hanno bisogno di aiuto probabilmente avranno un po' di difficoltà a gestirla al 100% e poi apriamo il capitolo smash laddove la signorina qua se la porta da casa la potenza veramente un bellissimo smash piatto una fucilata tra l'altro con questo rumore vi faccio sentire è un rumore sordo è come se fosse marmo qui dentro non senti che vibra senti che impatta la palla hai una percezione di quando impatta la palla parte forte quindi bello smash piatto veramente nulla da dire sullo smash piatto bello anche il kick migliorato rispetto all'anno scorso per questa questione diciamo secondo me più resina che rilievo secondo me è un filo più morbida la resina utilizzata per l'esterno della racchetta e quindi anche più che resina anche la vernice ecco c'è quell'attimo diciamo che se la tiene un attimo più dentro rispetto allo scorso anno che ho gradito particolarmente e ho trovato che anche sul smash in kick faccia un gran lavoro vibora smash in kick smash piatto poco da dire è difficile criticare un oggetto del genere sulla rete perché comunque va veramente forte è stancante però è veramente stancante infatti a un certo punto ho mollato ho detto basta non ce la faccio più devo cambiare racchetta tendenzialmente un allenamento di un'ora con lei che può corrispondere probabilmente a una partita di un'ora e mezza un'ora e tre quarti beh ragazzi si sente si sente tanto io che comunque ho la deschetta forza anche nel braccio l'ho accusata abbastanza quindi occhio se non avete il fisico e la tecnica diciamo deve essere di base questa vi bastona dal primo all'ultimo momento allora vediamo un attimo perché comprarla e perché no la comprerei perché è un oggetto bellissimo la comprerei perché comunque è una racchetta potente se sollecitata quindi per un giocatore aggressivo per un giocatore soprattutto di sinistra per un giocatore soprattutto di rete che dal fondo non ha particolari problemi in difesa o in costruzione la comprerei perché è una racchetta comunque aggressiva trasferisce però molto 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 bene e ci aggiungo un altro molto l'impatto con la palla molto sensibile molto connessa ai colpi veramente a maglia da questo punto di vista non la comprerei perché è difficile perché è sfiancante perché alla lunga ti rendi conto che anche presa nelle versioni più leggere ti richiede un'attenzione tecnica e fisica per arrivare sui colpi e per giocare bene ogni colpo che diventa pesante che diventa faticosa per cui è una racchetta ragazzi che vi consiglio solo se state bene fisicamente ed anche tecnicamente solo avanzati e solo avanzati che si allenano tecnicamente a padel non la comprerei perché costa un botto ma Valion ci ha abituato già precedentemente a prezzi così alti d'altronde è un progetto comunque handmade in spain e si fa pagare però caro Valion è vero che ti fai pagare ma qualche finitura io la aggiusterei perché per 400 euro io la racchetta la voglio perfetta bene ragazzi lei è disponibile presso il mio partner padelguru.it dove avete il mio codice sconto del 5% che potete utilizzare quando volete su qualsiasi prodotto presente nello shop per quanto riguarda me ragazzi vi ricordo iscrivetevi al canale seguitemi su instagram lasciate un like sempre ai miei contenuti che sia su instagram che qui su youtube ed è fondamentale che lo facciate perché è il modo migliore per aiutarmi è gratuito non vi costa nulla e vi ringrazio sempre per il vostro supporto che è fondamentale ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video